dobbiamo registrare l'auto fai ds franzo già ho fatto tutto, sto già registrando tutto vabbè è vero che non serve neanche ds sono il nuovo mago del mondo eh? 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 bella 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 bello teo bello teo bella bella questa deve essere one try, one chance la massevo dance bella ragazzi sono delux e siamo giù qui tornati con un nuovo video di fortnite qui con me ci sono il marzano eh? ok questo è il primo video della season 4 hanno fatto veramente tanti cambiamenti non solo a livello di mappa ma anche a livello di gameplay possono purtroppo piacere o non piacere ma ci si abitua da oggi teoricamente tutti i gameplay che vedrete sul canale verranno registrati su pc quindi giocherò con mouse e tastiera per tutte le domande su impostazioni, sensibilità e balle vari le trovate in streaming digitando il comando punto esclamativo sense quindi venerdì lo proverete per il resto instagram saprete ovviamente dove trovarlo cioè ovunque arriviamo a 10.000 mi piace per un nuovo video di fortnite e come sempre sedetevi rilassatevi popcorn alla mano e grazie mille Epic Games per l'emote e buona visione io direi Dilted Towers no non lo so Zanò non lo so che pensi? mi piace pinnacoli trattrizzo no mamma ma perché mi spawna al contrario? hai dei problemi comunque a me non spawna mai il contrario a me te lo giuro a me ogni tre partite una volta al contrario mi ci deve spawna a me mai una volta sola sempre te lo giuro sempre dove andiamo? è casa centrale no fra io non sto al centro manco della minchia non sto capendo una sega di niente si lo so e c'è anche tu quel deltaplano è un drago con l'aliante non è un aliante sto cercando di fuggire no c'è gente? sono fuggito a L c'erano due persone c'è un pompa Marzotti lascia una pozza qui da me uno da un viz lo hai dato due volte ok a te porto giù la pozza tieni Marzone stai giocando la grossa dalla zanza vengo io la direi una pozza dove stai zanelli? mi serve un pompa del nonno verde ma io ho il tac dipende da cosa volete voi ti prendi Marzotti lo davo tu guardate che ha pronto il puto no ho sbagliato ma io li ho pompi dove stai il po? te l'ho dato lì a te si l'ho preso ah ok ah io da zizzo ho guittato uno eh vai Jackie Chan corri come non hai mai corso arrivo zanò qua 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 destra qua destra qua destra oh sotto vero per forza qui sotto è uscito qua fuori bravo bravo terra uno erano quelli di L lo sai secondo me va raga che stiamo affaitati tutti in diversi eh zà 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 dove fra? dietro dove sono io? io li ho dato oh ho dato tanto è one shot tipo questo eh Lelu ok a terra l'altro da L ma? ok ok me ne sono fatti io ora prendo il cristallino eccolo a terra vuole lui altro dietro aia ma sono un dio zanò è che non falli vabbè però me l'hai riferito tu uè chi è che è arrivato? che? marza è ero ondula vendetta e mi sono fatto mi sono fatto l'altro team oh bella madonna ragazzi ero io perché pensavo di avere più vende ce ne avevo solo una tieni tieni zanò tieni 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 ho il medikit oh thank you diche diche ma aspetta che sono perplesso un attimo nella vita allora bozzate ne avete? no ok mi do questa facciamo così poi prendo io le bombe quelle brutte si si attacchi in fronte a voi bravissima oppure vi lancio a voi con la granata in fronte bello mentre 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 possibilmente mi urlate una roba del genere gentilmente io non lo posso fare perché mi arrestano sono troppo le nomate tu poi c'è un aeree blu chec ma io qua vedo un bello slurp fasone fasone cosa ci fa la mia razza su ts cosa ci fa la mia razza su ts manca oh vedi le bozze grazie ma sai fare i trickshot con sto coso zanò con il il cristallo capito o no non si capisce un cazzo quando salti però vabbè io ce l'ho è buono però però se c'hai un bug io ce l'ho perché c'ho il cecchino quindi me ne hai fotte un cazzo diamoci la pozza qua ce n'è uno fermi raga fermi dentro io l'ho attaccato in testa no ma mi son tol io l'ho attaccato in testa era scudato ma porca tre avete in mente che sto prende che ho sbagliato mi son fatto te lo posso attizzare qui ringrazio vecchio ti trovo delle bozze te lo la ringrazio oh dai ti ho trovato un pozzone vecchio che cazzo ho lasciato sotto ho lasciato qualcosa ma qui c'è lancia granate che faccio vuoi che lo prendo io ma io guarda ti lascerei le belle le sticky le prendi tu in realtà le scattere oppure ti lascio questo così fai trickshot eh ho già il ceco ah meglio ancora allora stiamo così che cacchio ho lasciato sotto tengo il medico Marzoni tu hai spazio hai spazio per un medikit o ce l'hai già si no un medikit lo posso prende ok te lo lascio qua davanti aspetta fammi apri questa casa che mo ne trovo tre o che bozza grossa ok me la do io vieni qua meglio sticky bomb o cecchino o cecchino voglio andare a menare è qua fuori hai il medikit Marzoni aspetta che te lo porto no no aspetta dai magari li trovo qua qua dentro io a est aspetta pure io bomba thank you un p ok pinnacoli non è molto gettonata adesso che ti hanno dato tutti a darsi di da quando hanno distrutto quella parte delle torri gemelle sembra un bel po' spoglia come se l'avessero divisa è vero quindi non ci vanno è molto meno anche andiamo verso Dusty dai meno caotica si ma infatti ci sta andando molta meno gente si no no ma infatti io sono ero pro di funzione di perché almeno riavvivi tutto il resto della mappa che prima era usata come un dito nel culo quello negro è tipo inutile nel momento in cui il negro c'è un cazzo così grosso che usa a fare il dito ah beh era aveva un senso valid point come dice come dice anche il nostro amico ah allora è fatta capito capito quanto fa strano vedere Dusty tipo così vero 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 ancora non mi è abituato no infatti allora preparatevi perché è sicuro qualcuno c'è magari è nascosto ma c'è ah qua dentro c'è per forza ah vedi pedana eccolo qua esattamente sotto io ma stava cercando di saltare fa mica ho rotto la pedana sta sparando con il pompa ehi salto tre volte il dato ancora figlio di puttana bravo ho l'ha citato oh ma c'era un altro ho fatto un quick mamma mia era la marzone qui che gli ho fatto la cazzola c'è un porta forte che io non so se prenderlo ma non siamo in zona prendiamo il cristallo e voliamo vai tu per me aspetta 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 allora non abbiamo pedano non abbiamo niente mi sa che è meglio scendere bella zona era oh hanno distrutto lì che della roba e salty springs salty springs scendiamo 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 qua sotto io c'è una casca che voglio recuperare mamma mia non capisco salty springs io mi inzuto then ok ci sei zanò si ho fatto il giro dall'altra parte oggi è la sagra dell'autismo nelle mie mani abbastanza qui dentro c'era quel tizio ok se non ci avevano visto ora ci hanno visto ed è quello che volevo di base ti vedi sopra la collina a su Flores eccoli cosa vogliono fare di preciso che non ho capito oh the fuck io direi da andare perché quello lì l'avranno sicuramente vessato però e allora non sono l'unico con la sagra dell'autismo nelle mani eh da me da mo' c'è campo così bello sto masseo dance yeah oh eh 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 che tanto se lo sta fuggiando no 99 di vita sono tiltatissimo un andato un andato due andati tre andati tutti morti basta c'è un altro raga li sto facendo esplodere tutto o sbaglio? sì ma è morto 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 quindi we got the goddamn point occhio perché quelli li stavano pushando all'altra parte qua ci sono delle pozzette se potete portare raga 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 how many how many blue? da qua da sopra da qua da sopra ma le hai vinto a west? ma c'è uno qua sotto zi eh infatti ho ferito tutte raga marzone dietro? ahia pure davanti a noi mamma mia che quanti sono abbiamo paesato per 20 più l'ultimo oddio ma pure sarà la famiglia raga ho preso tazza una cross the map col cerco ho ripreso ok credetemi che non so cosa cazzo stia succedendo ma comunque everything all right abbiamo fatto tipo 19 kill più o meno ca puttana ma infatti è uscito chissà che guarda guarda ma questo è buono cazzo postane siamo giocati proprio bene ma dovrebbe esserci un altro la sopra per forza di cosa c'è un po' di gente non so dove ma a destra l'ho visto dai a 300 nord ovest sopra la collina io provo a stare qua sopra dai almeno andiamo eeeh io ho finito ho finito il materiale eh ma lo stiamo qua è pieno se vieni qua da me è tipo pienissimo potete refullarvi tutti ma arrivo ah no vabbè ve lo porto a sto punto perchè è abbastanza lontano però ho preso due piotte di legna è buono e vi vedo stanno là sotto quei stronti 315 si ma che cazzo hanno costruito quelli lì oh lo ho detto what io ne ho sentito anche uno da destra che dovevo fa io ho due pedane ragazzi quante ne avete voi io ne ho 0 ok e ve ne troppo uno qui che nel caso serva almeno abbiamo lo split se vuoi allora lì io lo sai ho sentito anche tipo verso destra da dove abbiamo fatto di qua ecco lì sono lì dentro con le strutture lì io direi facciamo una non lo so perchè devono venire qua esatto capito torniamo indietro e riprendiamo con calma l'ulto che lì è pieno di costruzioni si 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 che io sto bello a secco dai dai io sono 999 di tutto ma voi no almeno prendiamo tutto pochio lì c'è una trappola mi piace chiaro un po' nel dubbio arrivo è pieno di trappole qua è pieno ma che infani cazzo di disgraziati disgraziati qua dentro è pieno zeppo di roba si schiappati tutto quello che vuoi al posto dello scar io prenderei un cecchino se lo trovo ah ecco l'ho il bold ci sono colpi di cecco io ne ho 200 tieni marzo no qua servivano così tanti io riproverai un attimo a salire qua per vedere perché là stiamo non in hanno volato hanno volato sono volati sono volati sono volati raga dove stanno questi stronzetti oh raga sotto di noi da bravo era uno e occhio perché sono volati altri da un'altra parte è che erano amico di quello che abbiamo ammazzato prima cercate di capito ok uno mi ha sparato mi sembra da 330 potrebbe essere probabile da lì visti 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 dietro l'albero in fondo dietro quell'albero guarda lì sotto un altro però da 345 raga l'ho preso a uno di vita raga no mi ha fatto un bel elcio stai qui quello era un momento o io o lui avete detto col sette si no però son sotto c'era 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 ho giusto uno però c'era un medic si c'era c'era ce ne ho 3 no orta broia ma se me li prendeva veramente rosigavo se ci avviciniamo un po' di più posso lanciare con il lancio granate vorrei gradirei un me te posso scroccare un me di mezzo si aspetta un attimo che sto provando a miscare questo tieni colpito un altro colpito altro colpito c'è da destra oh una terra raga pushiamo con la pedana è qua sotto vai 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 eccolo l'hai visto tolto più qua sotto di me raga la terra rigo nice what the fuck 11 5 3 ma che è che lavoro vabbè ma first try first game bomba spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi arriviamo a 10.000 mi piace per un nuovo video di fortnite ricordatevi di votare sondaggini in alto a destra nel caso ci fosse noi ci vediamo domani con un video venerdì con la streaming bella raga bella bella raga quanta bag a reit oh oh